Come si tratta di spiegare la tecnologia oggi possa aiutare le persone con disabilità di vario genere a comunicare tra di loro e con gli altri, con l'ambiente che li circonda. Nel quale ovviamente loro hanno delle difficoltà oggettive. Pensiamo alle persone sordoceche ad esempio per le quali oggi viene presentato un dispositivo realizzato da due ricercatori baresi che facilita la comunicazione per questo tipo di disabilità. Abbiamo in più pensato di coinvolgere una neuroscienziata di origini baresi ma che lavora da molti anni ormai in Scandinavia e che rappresenta la punta più avanzata della ricerca nel settore dei rapporti tra neuroscienze e musica. Tutto questo serve per farci capire come i progressi della tecnologia da un lato e quelli che si acquisiscono sempre più da parte dei ricercatori nel campo della neurologia, della neurobiologia, della neurofisiologia di come questo può aiutarci a migliorare le condizioni di vita e anche di salute delle persone con disabilità. La musica ha una serie di indicazioni di carattere terapeutico in realtà sia a favore per esempio delle persone che soffrono di un disturbo del tono dell'umore sia di persone che soffrono di persone che soffrono di persone che soffrono di persone che hanno problematiche legate al dolore fisico. In varie maniere la musica svolge un ruolo terapeutico, anzi quello che noi chiamiamo qui musicoterapia cioè la possibilità appunto di procurare un benessere attraverso l'ascolto o la performance di un musicista altrove nell'Europa del Nord viene utilizzato molto più correntemente come un metodo complementare di trattamento e di cura.